La delibera? No, le mandano la delibera se ci invitano a dare, esiste questa consulazione che si occupa di far pagare, di pagare dipendenti, di pagare i soldi, di pagare, tu puoi dare arresto alla cinta, esiste questo consulazione. Allora, cerchiamo di valutare anche questa possibilità. Io se vuole le mando la delibera, va bene, avevo già scritto in comune, comunque io le mando, sicuramente la mattina è una bella facciata. Quello lì lo stanno già facendo appunto e funziona benissimo con lei, quindi non vedo perché non si può adottare anche in prima, perché ogni mese si occupa di pagare. Va bene, le mando, poi qui. I giornalisti devono essere molto più responsabili in un momento di tensione sociale, mi appello all'assessibilità dei giornalisti. Grazie.